Adesso ci muoveremo in una meditazione prima di un messaggio canalizzato da Kryon e io sono stata ispirata da coloro che hanno richiesto a proposito dei propri amati animali anche da coloro che hanno richiesto a proposito del termine anima antica adesso sappiamo che l'anima antica è qualcuno che ha avuto un'espressione sulla Terra tante volte, si è reincarnato diverse volte e torna continuamente e quando parliamo di anima antica ci riferiamo al pianeta Terra perché la vostra anima chiaramente è eterna quindi usiamo questo termine anima antica e anche riferiamoci ai nostri amici animali quando entriamo in meditazione io vi invito a chiudere i vostri occhi e rilassare il vostro corpo rilassate il vostro viso rilassate le vostre spalle le vostre braccia e mani rilassate la vita le ginocchia le caviglie i piedi e sentite che tutte le tensioni nel corpo si dissolvano e scivolano in via e in questo momento di rilassamento contemplate quante volte siete stati su questo pianeta e in effetti se vi state sintonizzando e state ascoltando questo voi avete avuto diverse vite sul nostro bellissimo pianeta Terra io vi invito a pensare quanti animali avete potuto avere come compagni durante ogni vita che avete condiviso su questo bellissimo pianeta Terra e quella energia di questa relazione di amore che avete avuto con questi animali che avete sperimentato è ancora lì nel campo unificato dal quale noi veniamo e poi torniamo adesso e io vi invito a richiamare le energie di ogni singolo animale che avete avuto in ogni vostra vita sul pianeta Terra e per alcuni di voi ce ne sono tanti tanti animali che si mostrano per salutarvi e dirvi ciao noi ricordiamo il rapporto bellissimo che abbiamo condiviso insieme e così passate un po' di tempo salutando e dando il benvenuto a tutti questi animali che avete avuti in tutte le vostre vite che avete vissuto e sono venuti per essere con voi per una ragione per supportarvi nel vostro viaggio sulla Terra così mentre voi passate attraverso livelli di coscienza ecco il loro ruolo è stato quello di amarvi in modo incondizionato in modo che voi potevate ricevere il messaggio che voi siete magnifici e che la vostra esistenza sul pianeta è importante e sappiate che questa comunicazione che avete adesso aperto con tutti gli animali amati nel passato è un invito per loro energeticamente ad essere con voi in ogni respiro che continuerete a prendere da questo momento in avanti sono qui in amore e supporto di voi e sono gioiosi e felici in questo rapporto rinnovato che adesso state creando e da questo luogo senza tempo e pieno di amore adesso diamo il benvenuto ai messaggi da Kryon vi saluto miei cari sono Kryon del servizio magnetico sono molto consapevole di tutte le anime anime eterne che stanno ascoltando alcune guardando adesso i quattro insegnamenti canalizzati che verranno presentati questo mese sono tutti su una tematica ed è la tempistica la tempistica è un argomento talmente vasto che contiene tanti attributi e livelli ne abbiamo anche parlato in riferimento alle vostre incarnazioni ma c'è molto di più se siete interessati a saperne di più sul processo di incarnazione trovate tutto nelle canalizzazioni precedenti che sono disponibili per voi sul sito del mio partner perché anni fa dissi al mio partner di rendere sempre disponibili le canalizzazioni queste quattro canalizzazioni saranno un po' diverse alcune informazioni sono state presentate ma oggi le metteremo tutte insieme la tempistica siete consapevoli che se siete qui ad ascoltare queste parole il tempismo è perfetto se state ascoltando queste parole e sentite di volerne sapere di più questo è perfetto è l'energia che viene presentata voglio mostrarvi e parlarvi della tempistica anche riguardo a voi che state ascoltando ora la mia voce non è solo la mia voce porta con sé qualcos'altro un invito compassione riconoscimento amore c'è un'energia che viene trasmessa nel campo ora e rimane rimane e in qualunque momento l'essere umano ascolterà questa canalizzazione la sentirà questo è l'aspetto multidimensionale della tempistica forse penserete che il posto giusto nel momento giusto sia un momento unico nell'universo non esista un altro ma questo non è esattamente corretto e vi parlerò anche di questo in questa serie di quattro canalizzazioni la prossima settimana parlerò di qualcosa sulla tempistica che potrebbe interessarvi le canalizzazioni saranno sempre disponibili per tutti più avanti ecco la domanda a cui risponderemo la prossima settimana cosa sta accadendo sulla terra perché è diverso la storia si ripeterà ma ora oggi voglio parlarvi della tempistica di dove vi trovate nel mondo lineare in cui vivete in cui avete una data avete un'ora del giorno e siete nati in questi tempi che noi chiamiamo il cambiamento e se siete nuovi a questi termini o a queste cose di cui sto parlando noi ne abbiamo parlato tantissime volte studiate se volete la precessione degli equinozi studiate se volete in maniera sintetica il calendario dei Maya essi crearono quelli che chiamarono i calendari della creazione ciascuno dei quali era lungo 5125 anni approssimativamente che corrispondevano alla precessione degli equinozi che è un'oscillazione della terra che ha un ciclo di 26.000 anni e i calendari all'interno di questo ciclo grande erano dei mini cicli che i Maya rilevarono dall'osservazione delle stelle e predissero che nel 2012 quel calendario non sarebbe servito più perché sarebbe stata la fine del loro lungo computo e ci sarebbe voluto un nuovo calendario ma non solo i Maya molti indigeni hanno predetto un cambiamento il potenziale di un cambiamento di coscienza perché gli esseri umani possono fare quello che vogliono con il loro libero arbitrio ma questa volta era un po' diverso perché si trattava del potenziale cambiamento dell'umanità un cambiamento di coscienza di tutta la coscienza nel mondo un cambiamento sottile ma che con il tempo produrrà una coscienza superiore a livello globale e siete già su questa strada e ne parleremo di più la prossima settimana ma le domande sulla precessione degli equinozi riguardano la tempistica del cambiamento di energia e il suo punto focale che si è verificato il 21 dicembre del 2012 c'è chi dirà è lì che è incominciata ma non è così in realtà incominciò 18 anni prima del 2012 e dura per 18 anni dopo il 2012 quello che sto dicendo è che voi vi trovate proprio al centro e ne manca ancora un po' questa finestra di 36 anni ha un'energia che è diversa da qualunque energia ci sia mai stata sul pianeta guardatevi intorno vedete cose strane che accadono nei notiziari la risposta è sì accadono cose che non sono supportate dalla coscienza del pianeta e ve ne abbiamo parlato il cambiamento di cui abbiamo parlato tante volte è l'aumento della luce sul pianeta ed è una metafora non significa illuminazione significa coscienza superiore e in questo la coscienza che è sempre stata qui che è una coscienza oscura di guerra questa incomincia a diminuire e voi direte aspetta un attimo ma come puoi dire questo se mentre stai parlando ci sono delle guerre vi risponderò questo guardate qual è la risposta alla guerra è questo che dovete osservare l'oscurità di una coscienza bassa è ancora sulla terra e lotterà urlerà e farà tutto quello che potrà per tenere la luce lontano da qui avete visto qualcosa di questo qualcosa che assomiglia al 1943 in questo momento sì e capite cosa sto dicendo la vecchia energia su questo pianeta che sia nei governi nella leadership scalcia e urla quando vede che la luce inizia ad arrivare e a cambiare il rapporto luce oscurità perché accadranno tutta una serie di cose la corruzione verrà vista le cose inappropriate verranno viste affrontate cose che sono sempre state lì inizieranno a cambiare i pregiudizi il bigottismo verranno richiamati e dovranno cambiare l'energia oscura che è sempre stata lì orgogliosa di mostrarsi dovrà nascondersi sono tutte metafore cari miei per dirvi che la luce sta vincendo e potete vederlo nelle reazioni dell'umanità questi sono gli attributi della finestra di 36 anni di questa precessione degli okinozzi che finirà approssimativamente nel 2030 e in questa finestra di 36 anni avete già fatto dei passi da gigante ma ci sono più opportunità tra adesso e la fine di questa finestra che vi permetteranno grandi cambiamenti invenzioni questo è il momento delle invenzioni cari miei è il momento della pulizia è il momento di stabilire cosa volete non solo a livello individuale ma a livello nazionale e a livello planetario e questo comprende anche una più profonda consapevolezza della vostra collaborazione con Gaia quello che avete fatto al pianeta e quello che potete fare per rimediare e per sostenere questa collaborazione con integrità questa è solo una di molte cose la relazione che avete l'uno con l'altro anche questo verrà messo in discussione quello che pensate essere appropriato oggi ma che non lo era in passato la chiesa stessa verrà messa in discussione anche di questo abbiamo già parlato persino nel 2013 queste cose stanno iniziando a cambiare ma lo fanno lentamente cari miei quindi non decidete che è questo che l'umanità fa in base a quello che accade questa settimana o la scorsa settimana date un'occhiata più ampia guardate a 20 anni fa anche 25 e poi guardate ad oggi osservate le reazioni a cosa sta accadendo oggi e poi guardate le reazioni di 30-40 anni fa troverete che è molto diverso è di questo che parliamo vi incoraggiamo a passare alle cose che adesso intuitivamente state elaborando voi avete dei progetti individualmente che per tanto tempo avete pensato di poter fare e forse in passato ci avete anche provato ma non avevano funzionato ora è il momento il tempismo è di questo che stiamo parlando l'energia è diversa oggi persino rispetto a due anni fa adesso l'energia potrebbe essere giusta e matura per le cose a cui state pensando forse quel centro di guarigione forse il libro che volete scrivere forse cose nella vostra vita personale questo è il momento non c'è momento migliore specialmente per le anime antiche in ascolto adesso che sono consapevoli di quello che ho appena detto e ha stimolato il loro interesse perché sto parlando proprio a loro è il momento di fare ciò che sapete di poter fare che potrà aiutare gli altri uno alla volta o in gruppi non c'è mai stato un momento migliore per parlare a molte persone attraverso i vostri social media potreste dire ma non saranno interessati in quello che ho da dire o sarete sorpresi cari saggi se avete trovato la chiave che vi aiuta ci sarà interesse ci saranno persone che avranno bisogno di aiuto che saranno interessati a ciò che fate questa canalizzazione parla della vostra tempistica sulla terra in questo momento c'è moltissimo qui per voi cari miei moltissimo io sono Kryon innamorato di tutti voi la luce sta vincendo guardatela e così è grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti